Camminare insieme e incontrarsi, lavorare sulla strada del servizio e della carità perché fratelli e sorelle in Cristo mediante il battesimo. Così Papa Francesco ha spiegato il senso della visita nella chiesa anglicana di ogni santi a Roma dove mai nessun pontefice si era recato nel passato. Un'occasione per ricordare il bicentenario di questa presenza nella capitale a 50 anni dall'inizio del dialogo ecumenico tra cattolici e anglicani. La visita è iniziata con la benedizione dell'icona di Cristo Salvatore e a questo sguardo di salvezza, amore e compassione il Papa nell'Omelia è invitato a guardare come gli apostoli che trafitti dallo sguardo misericordioso di Gesù iniziarono un cammino di vita nuova. Ricordando San Paolo che superò le incomprensioni con la comunità di Corinto Francesco ha indicato nell'umiltà la strada da percorrere decentrandosi, riconoscendosi bisognosi di Dio e mendicanti di misericordia. Ringraziamo il Signore perché tra i cristiani è cresciuto il desiderio di una maggiore vicinanza che si manifesta nel pregare insieme e nella comune testimonianza al Vangelo, soprattutto attraverso varie forme di servizio. A volte il progresso nel cammino verso la piena comunione può apparire lento e incerto, ma oggi possiamo trarre incoraggiamento dal nostro incontro. Per la prima volta un Vescovo di Roma visita la vostra comunità. è una grazia e anche una responsabilità, la responsabilità di rafforzare le nostre relazioni a lode di Cristo a servizio del Vangelo e di questa città. Tre le domande poste a Paolo Francesco che sul rapporto tra cattolici e anglicani ha ricordato che sono buone anche se spesso si sono fatti passi indietro. Sul dialogo teologico ha chiarito che bisogna cercare radici sui sacramenti, ma questo si fa insieme, discutendo e camminando. Nel frattempo però si procede di comune accordo nel servizio alla carità, ai poveri, agli ospedali, nelle guerre. Il Papa ha ricordato che le chiese giovani hanno una vitalità e creatività diverse, hanno bisogno di collaborare e da loro l'ecumenismo è più facile, ma in Europa c'è una tradizione solida nella ricerca teologica e dello scambio può nascere ricchezza. Infine Francesco ha annunciato che allo studio un viaggio di un giorno in Sud Sudan con l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, su invito dei leader delle tre principali confessioni cristiane. Un viaggio che potrebbe essere di aiuto nel pacificare il paese africano, sconvolto da un lungo conflitto e una grave crisi alimentare.